L'antica romana I bambini avevano due elementi importanti Panem e Circenses Dopo aver mangiato e riempito la pancia Il divertimento è un elemento importante Gli americani sono entrati a Kabul In un dicembre di una decina d'anni fa Bene, i bambini di Kabul Vicino a una postazione di obici Hanno preso i bossoli E le munizioni Hanno messo due spaghi E si sono fatti una giostrina In alcune nazioni le giostre Non hanno nessun tipo di dazio Come i medicinali Subito dopo che Uno ha potuto mangiare Evadere, divertirsi Fare un'esperienza Penso che sia un fattore fondamentale Del genere umano La bellezza in un parco di divertimenti E di frequentare le attrazioni È che tu Lo condividi con degli altri Lo condividi con i tuoi bambini Perché le giostre a cavalli Continua ad essere un elemento importante Anche se le prime Savano state fatte 200 anni fa Perché i genitori si ricordano Lo condividi con i tuoi bambini Grazie a tutti